Ciò che ha detto il mio amico Giovanni prima, poc'anzi, mi facilita molto il compito e mi permetterà di rimanere nei tempi. Egli ha richiamato la vostra attenzione, come hanno fatto altri stamani, sull'osso subcondrale. Bene, questo punto di osso è critico perché in questa parte dell'osso, negli stati iniziali di osteoartrosi, e qui vorrei sollecitare l'uditorio a una discussione, laddove ce ne fosse il tempo, sul termine di osteoartrosi. Personalmente è un termine che io non condivido ma che utilizzerò perché ritengo che questo termine debba assolutamente essere cambiato. Bene, in questa slide voi vedete che, perlomeno nelle fasi iniziali, ci sono alterazioni che sono analoghe, sovrapponibili, simili, comparabili a quelle che si verificano nell'osteoporosi. E questo ha dato l'astura a una serie di ipotesi di lavoro in termini terapeutici che fanno essenzialmente riferimento a due agenti, la vitamina D e i bifosfonati. Tutti gli altri, bene o male, hanno fallito. Questo è lo stato dell'arte oggi, 2018, per quello che riguarda la vitamina D. Una grandissima confusione. Accanto a studi, per esempio, i primi due, vi porterò soltanto lavori di questi ultimi due anni, evidenze di questi ultimi due anni. Due revisioni sistematiche della letteratura che dicono che in realtà, per quello che riguarda l'osteoartrite del ginocchio, la vitamina D, insomma, faccia molto poco. Ma c'è un altro lavoro della stessa epoca che indice che invece l'impiego della vitamina D nell'osteoartrite del ginocchio, diciamo anche osteoartrosi, tanto per usare il termine più comunemente utilizzato, possa avere un suo valore. Riprendo ciò che ha detto Giovanni. Riprendo ciò che ha detto Giovanni, avendo avuto, tra l'altro, il privilegio, una ventina di anni fa, di rappresentare l'Italia in un gruppo di studio che fu istituito a Miami per studiare le possibilità di un intervento con i bifosfonati nell'artrosi. Bene, questa è una conclusione pubblicata da Charles Cartilage quest'anno che ci dice che i bifosfonati non danno praticamente alcun effetto. Peraltro nella stessa epoca viene pubblicato questo lavoro che in realtà apre un po' i bifosfonati e dice che nell'artrosi del ginocchio possono anche ritardare o comunque evitare una protesizzazione di ginocchio. Quindi siamo in questo ambito, nello stesso livello con cui abbiamo visto poc'anzi trattare la vitamina D. Recentemente è uscito un lavoro, che è un lavoro in realtà non proprio recentissimo, ma l'ho messo agli altri, quello relativo all'impiego del neridronato nel ginocchio doloroso da artrosi. Cosa ha fatto l'autore? Varenna ha utilizzato lo stesso schema che aveva utilizzato per l'osteoistrofia e ha riportato dei risultati favorevoli sul dolore. Allora, terminato questo aspetto relativo ai bifosfonati, dico che per quello che riguarda questo lavoro probabilmente Varenna è intervenuto in una situazione molto molto precoce. Per quello che riguarda invece i dati discordanti o poco concluenti tra di loro degli altri due lavori è perché verosimilmente le casistiche non erano omogenee. Perché se noi utilizziamo la casistica nelle fasi precoci, a cui faceva riferimento Giovanni, probabilmente abbiamo dei risultati favorevoli. Ma se ovviamente facciamo un trattamento a osteoartrite avanzata, credo che i bifosfonati possano fare molto poco. Quanto ai farmaci di fondo? Oggi i farmaci di fondo vengono rivalutati. Fondamentalmente sono tre. Sono la diacereina, la glucosamina e il galattosamino, glicurono, glicano, solfato. Ritengo che quella che abbia un razionale più forte di impiego sia la diacereina. Diacereina è molto usata in Francia, lo è pochissimo in Italia, pur essendo commercializzata, non ho capito perché, però in realtà l'esceo la posizione come farmaco di prima linea. Riprendo ancora ciò che ha detto Giovanni. la cascata infiammatoria in corrispondenza di una articolazione. Ebbene, ci sono alcune citochine che sono più importanti di altre. L'interluchina 1, il TNF-alfa e il nerve growth factor. Io vi dirò pochissime cose su ABT981, Adalimumab e Tanezumab. Anche se per la verità ci sono prove sufficientemente valide anche per il Fasinumab. Fasinumab, Furanumab e Tanezumab sono agenti, anticorpi monoclonali, anti nerve growth factor. Il Fasinumab probabilmente vedrà la luce, il Tanezumab la vedrà sicuramente. Ma partiamo da Adalimumab. Adalimumab è un farmaco biotecnologico che è adoperato per il trattamento dell'artrite reumatoide. Bene, l'iniezione intraarticolare di Adalimumab ha dato risultati favorevoli nell'artrite del ginocchio. Perché evidentemente c'è una liberazione di TNF-alfa. E peraltro è stato fatto anche uno studio che prevede l'impiego di Adalimumab alle stesse dosi che vengono adoperati nell'artrite reumatoide, questo studio è iniziato, poi è stato chiuso, poi è stato riaperto. I risultati finali sono previsti nel 2020. L'utichizumab. L'utichizumab utilizza un meccanismo estremamente singolare. Un meccanismo che è chiamato DBD. Si tratta di un anticorpo che monta sulle due catene due neutralizzatori di due citochine differenti. Ce ne sono due versioni, una versione A e una versione B, cambia soltanto l'ancoraggio della sostanza che dovrà neutralizzare la citochina. La versione B viene attualmente in fase di studio, è finalizzata a neutralizzare sia l'interleuchina A sia l'interleuchina B. Si somministra per via sottocutanea lo studio è di fase 1 e i risultati preliminari sono sicuramente molto lusinghieri. Nerve growth factor. Il nerve growth factor viene liberato in sede articolare tutte le volte in cui c'è un danno articolare, c'è una infiammazione o anche quando c'è dolore. Bene, gli studi con il farmaco in grado, con l'anticorpo monoclonale in grado di neutralizzare il nerve growth factor sono molteplici. Ed è stato impiegato uno di quegli attreggenti che vi facevo vedere poc'anzi che è il taneizumab. I risultati sono stati molto favorevoli sotto il profilo sintomatico. Purtroppo però c'erano degli eventi, sono stati segnalati eventi avversi tra i quali anche una osteonecrosi. In realtà la casistica era sporca, chi avrà voglia di andarlo a vedere se ne potrà rendere conto. Ma il farmaco era molto efficace al punto che l'FDA ne ha risollecitato la riconsiderazione. Attualmente questo farmaco è in fase di studio, i vi compresa l'Italia. Il segnale WINT, non vi dirò che cos'è il segnale WINT, chi si occupa di osteoporosi lo sa. Tra l'altro in questo momento c'è un particolare interesse perché un farmaco biotecnologico, il secondo che avremo probabilmente per l'osteoporosi, è un farmaco che inibisce l'inibitore del segnale WINT. Il segnale WINT in osteoporosi non è particolarmente attivo. Nell'artrosi si verifica invece il fatto opposto, bisogna andarlo a inibire. Ebbene c'è una molecola che si chiama SM04690 che è un inibitore del segnale WINT probabilmente perché va a bloccare le proteine a serpentina. Uno studio in corso, già in fase 2, ci dice che l'impiego dell'inibitore del segnale WINT ha sicuramente effetti favorevoli sulla sintomatologia osteo-artrosi. I farmaci antinfiammatori non steroidei attualmente a disposizione per questa condizione sono 14, però sono attualmente in studio 44 nuovi sistemi di consegna del farmaco in sede di interessamento articolare. probabilmente alcune di queste formulazioni vedranno la luce. Quanto poi alla terapia locale? Beh, la terapia locale in realtà è considerata dalla stragrande maggioranza delle linee guida una terapia non ancillare, ma una terapia che può integrare il trattamento e coloro che hanno stilato queste linee guida mettono l'accento sulla pericolosità di un'eventuale concomitante terapia con farmaci antinfiammatori non steroidei. C'è un grosso interesse per la cannabis, lo sanno tutti in questo momento, in realtà per il suo impiego per il trattamento del dolore e dell'osteo-artrosi non ci sono evidenze particolarmente forti né quando venga impiegata per via sistemica né quando venga impiegata per via locale. Quanto poi al trattamento locale? Ci sono due formulazioni nuove, una probabilmente la conoscete, è a disposizione in Italia da tempo, si tratta di un'associazione di acido ieruronico di origine batterica cross-linkato con biscarbonimide, con triancinolone e sacetonide in forma micronizzata e i risultati hanno dimostrato un'equivalenza di effetto rispetto all'acido ieruronico rispetto al quale però la comparsa dell'efficacia avviene molto più rapidamente che non con l'acido ieruronico stesso. Recentemente è stato presentato un lavoro circa l'impiego del triancinolone in microsfete, in realtà nello studio di fase 3 non è stato raggiunto l'obiettivo primario, però in una valutazione più globale di questo prodotto possiamo dire che probabilmente è da considerare efficace. Alcuni dei farmaci dei quali vi ho parlato sono riportati in questa scheda, però recentemente c'è stato un grosso interesse per la sprifermina. La sprifermina corrisponde al fibroblast growth factor 18 e ha un'attività tale da favorire la proliferazione condrocitaria e da rigenerare la cartilagine attraverso un aumento della formazione di matrice. Lo studio Forward ha dimostrato che in realtà la sprifermina dà un effetto favorevole dose dipendente che per dosi più alte l'effetto è maggiore, non sono stati segnalati eventi avversi. Quanto agli opioidi, lo studio Space pubblicato recentissimamente su JAMA ha dimostrato che non è da considerare la terapia con opioidi superiore a quella con i trattamenti tradizionali. C'è una forte attenzione nei confronti di agenti non farmacologici e particolarmente nei confronti di integratori o supplementi che di si voglia, in particolare silicio, curcuma, boswellia e picnogel. In realtà quello che è più forte in termini di supporto scientifico è il silicio. Il silicio quando viene stabilizzato in colina e addizionato di vitamina C ha dimostrato di essere un integratore particolarmente efficace e sostenuto da lavori pubblicati su riviste autorevoli e in un'esperienza pubblicata nel 2017 ha dimostrato di svolgere un'azione antidolorifica. Così come peraltro un'azione antidolorifica è dimostrata per numerosi altri agenti tra cui la curcuma all'Eula del 2018 si è tenuta qualche mese fa è stato presentato uno studio che dimostra come il flexofitol che è un derivato della curcuma longa possa essere considerato sia di considerare un agente efficace. Infine la tossina botulinica A. Anche questa è una sostanza di particolare interesse e questo è un lavoro pubblicato recentemente da un gruppo di anestesisti quali hanno dimostrato che l'associazione di tossina botulinica A per via intraarticolare contro l'ancinolone risulta superiore rispetto all'impiego dell'osteroide adoperato isolatamente. E quindi tanto per fare un punto finale della situazione direi che non c'è dubbio che in questo momento abbiamo a disposizione all'orizzonte, oltre all'orizzonte, numerosi agenti che si prospettano come estremamente utili per il trattamento della gonartrosi i trattamenti devono tenere conto della patogenesi molecolare di questa condizione e se si agisce sulle singole molecole che in volte andiamo in direzione di quella che oggi viene considerata terapia più spicabile cioè la terapia personalizzata le opzioni farmacologiche attualmente disponibili quindi potranno aumentare e normalmente la nostra disposizione sarà maggiore in questo contesto vanno considerati anche agenti non farmacologici considerati sotto questo termine tradizionalmente e gli agenti non farmacologici possono integrare la terapia farmacologica classicamente impiegata nella pratica clinica quotidiana. Grazie. Grazie professore per questo.